Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il fusion americano, onorato, ha dimostrato, nonostante la sua giovanissima età, di essere un interprete raffinato ed attento, senza rinunciare a quello che si può tranquillamente definire un rapporto d'amore con la chitarra. Un po' offuscati dalla incisiva personalità del musicista, il pianista Francesco Del Rico di Napoli e di pescaresi Maurizio Rolli e Marcello Di Leonardo, rispettivamente al basso elettrico e alla batteria, hanno accompagnato il musicista di sicuro successo che vanta collaborazioni con Jam Senese ed Ares Tavolazzi. A proposito di quest'ultimo big del jazz italiano, sarà ospite sempre al Circolo Ficzio di Chieti venerdì 17 marzo.